bentornati nella mia cucina amici del canale stasera vi voglio proporre una bella pizza ma non la classica pizza una pizza di carne macinata quindi per fare questa ricetta ci occorreranno di circa 400 grammi di carne macinata di secondo taglio all'incirca messo 70 grammi di pane in cassetta togliendo la crosta ambollato con un po di latte un tuorlo 180 grammi di pomodorini della passata di pomodoro fresco 3 cucchiai di parmigiano 200 grammi di mozzarella tagliata cubetti del pepe dell'olio di oliva del sale e degli aromi per arrosti procediamo adesso con la ricetta per prima cosa andiamo a mettere il nostro pane ammollato con il latte dentro alla nostra carne macinata servirà a dare morbidezza al nostro impasto la stessa cosa facciamo con il tuorlo io non uso l'albume perché l'albume lo secca un po' l'impasto lo indurisce quindi siccome io lo voglio morbido non lo voglio secco aggiungo solamente il tuorlo mescoliamo dopodiché aggiungeremo un po di queste spezie per arrosti che daranno un po' di sapore non ne mettiamo tante perché devono dare proprio un accenno di gusto poi aggiungiamo i 3 cucchiai di parmigiano un po' di pepe e un altro po' di sale dopo aver finito di preparare l'impasto lo stendiamo sulla teglia con carta forno proprio come se fosse una pizza cerchiamo di allargarlo dopo averlo steso andiamo a stendere a spalmarci sopra la nostra passata di pomodoro fresco fatta in casa spalmiamo per bene ecco sopra la passata andiamo a mettere i nostri pomodori adesso andiamo a mettere una bella spolverata di parmigiano chi lo gradisce può mettere anche un po' di pecorino ecco un filino d'olio e lo andiamo ad infornare a 200 gradi all'incirca per un quarto d'ora 20 minuti dopo che sarà quando sarà cotta la carne andremo a mettere i cubetti di mozzarella a dopo è passato un quarto d'ora ecco come si presenta la nostra pizza adesso andiamo a mettere i cubetti di mozzarella quella ideale per pizza che non rilascia acqua e così la andiamo a ricoprire per bene adesso andiamo a rimettere la nostra pizza in forno finché la mozzarella non si scioglie ci vediamo ed ecco qui la nostra pizza di carne macinata fatta alla margherita con pomodoro e mozzarella e qualche foglia di basilico adesso andiamo all'assaggio e vediamo come è venuta allora andiamo ad assaggiare io già mi sono preparata il mio pezzetto da gustare buonissima morbidissima saporita quindi la potete benissimo realizzare potrebbe essere anche una ricetta svuota frigo perché possiamo mettere come condimento quello che ci avanza in frigo che non abbiamo consumato e lo mettiamo qua dentro quindi è la ricetta ideale da fare per non fare le solite colpette o di hamburger ecco realizzare questo tipo di pizza anche per i bambini potrebbe essere un'idea sfiziosa per farli mangiare per dargli delle alternative quindi detto questo se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella così riceverete tutte le notifiche dei miei video in uscita ehm niente a tutto da dire ciao a tutti alla prossima e buone spade ciao a tutti ciao a tutti